L'edificio scolastico che potevano servire per una scuola di prestigio e una scuola di qualità. Purtroppo varie vicissitudini che conoscono tutti e altre che magari non conosciamo ma che hanno guidato questa attesa per lunghissima, è spiegabile attesa, lasciatemi dire, sicuramente hanno portato, hanno fatto sì di avere una scuola smembrata su più sedi. Ora, grazie alla commissione di gara, ma prima di tutto grazie al commissario romano dell'ex provincia regionale di Messina, e alla commissione di gara di cui io ho fatto parte e ho avuto l'onore grazie a lui e al dirigente Antonino Calabrò e al geometra Nuccio Miceli e poi c'era il supporto anche del dottor Costa e dell'ingegnere Carditello, preziosissimo, ecco siamo riusciti a reperire dei locali, gli unici possibili. Ecco, e senz'altro i lavori dovranno riprendere, la giudificazione c'è stata, speriamo che riusciamo a portarla a termine. Io sono ottimista perché tutti i passi sono stati compiuti, adesso si tratta di metterli in campo. Che tempi ci sono? Almeno sei mesi, e io penso che al primo settembre dovremmo esserci. Ci troviamo dove dovrà nascere il nuovo liceo scientifico, o meglio, i locali che dovranno ospitare il liceo scientifico che aspetta una sede da 50 anni e ancora tutt'oggi non si riesce. Si sta cercando di lavorare per arrivare all'inizio del prossimo anno scolastico, quindi settembre 2015, con i locali pronti. Si è stato fatto il bando, i lavori sono stati affidati, un privato sta costruendo e poi continuerà ad affittare alla provincia, o meglio, all'ente che ormai è subentrato alla provincia. Continuano a pagarsi gli affitti comunque per ospitare il liceo scientifico di patti, che nonostante avrà un'unica sede e dei locali sicuramente più adeguati rispetto a quelli di Piazza Grammici e di Contrada Rosola, continua ancora a sperare di poter avere una struttura costruita per essere scuola.